Sarà una domenica prevalentemente di promozione, quella che questa settimana vedrà protagoniste le squadre erpine. Nel massimo campionato regionale, infatti, l'unica a scendere in campo nel D di festa sarà il San Tommaso di Ciccio Messina, che nel match delle polemiche affronterà la Battipaiese. In promozione la capolista grotta unica, punteggio pieno in tutta la cadetteria regionale campana, ospiterà il Serino, in un testa coda dal pronostico abbastanza scontato, ma a occhio agli uomini di Marino, giovani ed imprevedibili. Quello tra giallorossi e biancocelesti sarà l'unico derby domenicale. Le altre erpine, infatti, saranno impegnate in sfide extra-provinciali. L'Ariano di Gaetano Fasano, dopo aver trovato il primo successo stagionale la scorsa settimana contro la San Severinese, giocherà in trasferta contro una formazione tutt'altro che semplice da affrontare, il Saviano di Gianni Simonelli. L'ultima avellinese impegnata sarà il Lioni. Cinque compagni affronteranno in trasferta il San Vitaliano, ricercando il quarto successo consecutivo che di fatto eleggerebbe la squadra rosso-blu come vera antigrotta.